Ciao ragazze e ciao ragazzi, mancano veramente pochissimi giorni al Natale però siamo ancora in tempo per aggiungere qualche nuovo decoro all'albero di Natale e quindi oggi vi mostrerò come realizzare questo gingerbread in panno utilizzando veramente poco materiale, materiale piuttosto economico è un tutorial veloce, facile e divertente quindi potete realizzare questi gingerbread assieme al vostro fidanzato assieme ai vostri figli, alle vostre sorelle, cugini insomma con chi preferite e niente ragazzi, io spero che questo tutorial vi piaccia vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto con il nuovo video Ciao! Per questo tutorial avrete bisogno di un pezzettino di panno color biscotto dell'imbottitura, una matassina per punto croce preferibilmente bianca degli aghi per ricamare dei bottoncini, delle sferettine per gli occhi dei nastrini e poi una specie di silicone comunque ora ve ne parlerò meglio durante il tutorial per dare proprio l'effetto panna sul biscottino diciamo così comunque partiamo subito andando a disegnare una sagoma sul pezzettino di carta se proprio volete la sagoma semmai ve la metto su facebook tra le foto di facebook così la potete scaricare tranquillamente però appunto come potete vedere non ci vuole la scienza e poi prendo l'imbottitura e il panno perché le andrò a ritagliare quindi prendo una forbice taglio prima di tutto la sagoma di carta e poi vedete mi aiuto e vado a tagliare anche prima due pezzettini di panno quindi faccio una parte da mettere sopra diciamo tra l'imbottitura una sopra e una sotto faccio anche l'altra e tengo questa formina proprio per farle quasi uguali poi dopo le rifinirò meglio e vedete se taglio l'imbottitura come la sagoma sborderà quindi vado così a occhio a occhio e croce a praticamente snellire la figura diciamo così faccio un macello in casa perché veramente l'imbottitura perde tutti questi pelucchi quindi insomma dopo quest'operazione dovrete passare l'aspirapolvere ma vabbè dai è divertente anche quello e vedete che una volta snellita la figura è chiusa vedete non uscirà l'imbottitura invece dall'altra parte che non ho ancora ritagliato vedete sborda un pochettino comunque niente paura procedete anche dall'altra parte e poi prendete un filo o meglio due fili della matassina quella per ricamo e sul finale basta fare un nodino così per bloccare la cucitura io ci metto un po' perché con le unghie ora iniziano ad essere parecchio lunghe comunque ce la faccio vedete faccio il nodino lo tiro un pochetto e adesso sono pronta quindi posiziono l'imbottitura al centro tra i due tra i due panni e vado a cucire facciamo così allora prendo ora qua sta un po' a voi scegliere la posizione che vi è più comoda io mi appoggio al piano di lavoro e poi vedete chiudo proprio con il filo le due estremità del panno chiudendo al centro questa imbottitura ricordatevi sempre perché se cambiate il filo sul fronte una volta dovrete cambiarlo poi sul fronte anche le altre volte perché vedete un pochettino il nodino si vedrà quindi concentratevi sul lato e perfezionate quello poi se il retro viene un pochettino più difettato non fa niente tanto si vede il dietro vedete continuo così per tutto il perimetro ora vi rifaccio vedere in dettaglio il profilo vedete da sotto a sopra chiudendo dentro l'imbottitura poi se sborda un pochettino non preoccupatevi perché poi tanto la andremo a sistemare però appunto se fate un lavoro più preciso ora tribolerete meno dopo poi arrivata in fondo chiudo la cucitura con due semplici puntini ora non so cucire non ho fatto corsi di cucito vi faccio vedere come faccio io questa cosa probabilmente saranno manovre chiamiamole così sbagliate però il risultato è carino e vedete il contorno non è preciso quindi con la forbice vado a perfezionare tutto il perimetro facendo molta attenzione a non tagliare appunto il contorno che ho appena fatto col filo bianco e vedete la differenza tra il lato che ho ridefinito e l'altro lato che non ho ancora toccato vedete come è molto più preciso comunque faccio anche l'altro lato e poi vado ad applicare i bottoncini io ho scelto due bottoncini rossi proprio natalizi però potete tranquillamente applicare bottoncini di legno bottoncini a forma di cuore insomma quello che preferite potete anche applicarli con la colla a caldo fate molto prima anche qua l'applicazione del bottone è così tanto per non è l'applicazione di un bottone professionale come sicuramente noterete lo posiziono al centro delle due braccia poi anche qua io applico due bottoncini voi potete applicarne tre quattro uno più grande cinque più piccini insomma come volete anche a seconda della dimensione del vostro omino biscotto faccio così sigillo questo lo vedevo fare a mia mamma questo lavoro qua di attorcigliare il filo attorno al bottone non so se se si usi così e applico anche il secondo bottone subito sotto a questo punto con più o meno il solito metodo vado ad applicare i due occhietti anche qui io ho scelto due perline queste qua molti sfaccettate che riflettono molto molto la luce voi potete tranquillamente utilizzare delle perline nere più grandi più piccole bottoncini insomma quello che più vi piace faccio passare la perlina e poi sigillo molto molto facile ora basta un pochettino ma un ciccinino appena di dimestichezza con ago e filo per fare una cosina del genere se no come vi ho già detto per i bottoni potete chiedere aiuto alla colla a caldo che è veloce e indolore comunque il primo occhietto è messo adesso taglio il filo ecco qua e poi con il solito metodo metto anche il secondo occhietto ecco qua molto carino a questo punto cosa faccio prendo del nastrino questo qua è bellissimo fatto a mano con amore però non lo applicherò perché voglio utilizzarlo per altre cose e quindi utilizzo questo qua con i cuoricini e i fiocchi di neve credo ne prendo un pezzettino cucio le estremità assieme vedete faccio una sorta di asolina se così si può chiamare e poi la vado a cucire dietro alla testolina del dell'omino così grazie a questo posso appenderlo ai rami dell'albero tra l'altro questo pupazzino qua è carino anche per per un segnaposto per un decoro su un pacchetto non necessariamente per un addobbo dell'albero ecco molto carino facile divertente mi piace mi è piaciuto un sacco realizzarlo taglio il filo dopo averlo fissato e vedete un'asola bella grande perché ho i rami belli cicciotti a questo punto prendo un pezzettino di filo bianco e rosso e trasformo il mio omino in una donnina quindi vado a creare un fiocchetto piuttosto grande e appariscente questo l'ho scelto rosso per riprendere appunto il colore del nastrino e dei bottoncini però potete vedete anche sostituirlo con una rosellina insomma mettere dei capelli con del filo da cucito magari biondi castani mori insomma potete sbizzarrirvi potete fare quello che preferite potete mettere una borsetta in mano alla donnina biscotto un paio di scarpe un pacchetto regalo quello che preferite poi con l'aiuto della colla a caldo vedete vado a fissarlo sulla testa lateralmente e poi prendo questa penna snow pen che sinceramente l'ho chiesta qua a marina di carrara in un negozio di hobbystica e lei mi ha detto che fa un effetto ghiaccio però sinceramente secondo me fa un effetto silicone comunque qua sotto nell'info box vi lascio il dettaglio e se la trovo su internet vi lascio anche un link diretto così se volete vedere il prezzo e dove reperirla lo trovate facilmente e poi vado a fare la bocca e niente ragazzi ecco qua il gingerbread donna finito io mi sono divertita veramente tantissimo spero vi sia piaciuto come video spero che lo rifarete e niente io vi auguro un felice Natale vi mando un grossissimo bacio e come sempre ci vediamo venerdì con il prossimo video ciao ciao